L'assessorato alle attività produttive della regione siciliana ha pubblicato l'avviso SMAU 2024 per selezionare micro, piccole e medie imprese e start-up innovative interessate a partecipare all'evento che si svolgerà a Milano dal 29 al 30 ottobre 2024. La finalità è promuovere il settore siciliano dell'innovazione nei contesti nazionali e internazionali. SMAU, infatti, è un'articolata piattaforma europea dedicata all'innovazione che comprende anche il grande evento internazionale di settore che si svolge nel capoluogo lombardo. Per le imprese siciliane rappresenta un'occasione per sviluppare relazioni commerciali, partnership industriali e finanziarie, progetti di open innovation e attività di co-innovazione con realtà nazionali ed estere. L'avviso, che ha una dotazione finanziaria di 130 mila euro, prevede il sostegno a circa 20 imprese dell'isola. Le aziende interessate, in possesso dei requisiti, potranno inviare la propria manifestazione di interesse alla partecipazione fino alla mezzanotte del 7 giugno 2024.